Un'intera giornata alla scoperta dei sapori della terra. A cancellare il convegno alimentazione e salute tenutosi domenica scorsa ha registrato la presenza di partecipanti provenienti da diversi paesi della Basilicata, della Campania e della Puglia. Tre momenti distinti, un convegno, il pranzo a base di ricette e prodotti vegani preparato dal cuoco Ezio Basile e un dibattito. Abbiamo iniziato con un'insalata, con semplicissima condita con sale rosa dell'Himalaya, gomasio e olio extravergine d'oliva, con tre crostini, con salsa di hummus di cicinieri, una salsa di fagioli neri e curcuma, piselli, basilico e menta. Poi abbiamo gustato un primo, che erano degli saliatelli, con finocchietto selvatico e molica fretta, del seitan alla piastra e della mozzarella vegana alla piastra. E per concludere abbiamo mangiato un fagottino di pasta frolla vegana con marmellata di limoni e sambuco. Bevande abbiamo bevuto del tè bancia, dell'acqua di fonte e uno sciroppo di sambuco e limone diluito con dell'acqua. L'iniziativa promossa da Cesare Ferzi, documentarista e da Asso Vegan, associazione vegani italiani, con il patrocinio del comune di Cancellara, Media Partner, la nuova del sud e la nuova tv, ha illustrato i vantaggi dell'alimentazione vegana, uno stile di vita che si sta diffondendo largamente e che trova sempre più interesse da parte di consumatori alla ricerca di un'alimentazione sana. I benefici dell'alimentazione vegana sono stati illustrati dal dottor Vasco Merciadri, responsabile del comitato scientifico nazionale Asso Vegan. Che l'uomo originariamente mangiava soprattutto frutta, verdura e cereali, poi successivamente ha cambiato il tipo di alimentazione, prima molto lentamente attraverso millenni e poi negli ultimi 50 anni ha aumentato drasticamente l'uso di proteine di origine animale, di grassi di origine animale che non fanno bene alla nostra salute, non essendo carnivori, avendo una struttura di flugivori. Infatti l'aumento esponenziale dell'utilizzo di proteine di origine animale e soprattutto di acidi grassi saturi ha portato a gravissimi problemi della salute. È chiaro che la nostra alimentazione deve essere uno stile di vita e la prevenzione delle nostre malattie inizia dal nostro stile di vita, quindi attività fisica, alimentazione ricca di frutta e verdura, come ci dicono sia l'Organizzazione Mondiale della Salute che altre associazioni, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura cruda, cereali e legumi integrali. Ecco questo deve essere la base della nostra alimentazione.